Siamo contenti, il fatto che siamo per il primo anno main sponsor delle grandi classiche del ciclismo, tra cui il Giro di Sicilia, che ci tranquillizza dopo aver vissuto questi giorni qua in Sicilia, perché veramente abbiamo visto cinque giorni, cinque tappe, vissute in maniera importantissima, una specie di ritorno al passato, perché dalle scoloresche alle istituzioni, alle grandi campioni del ciclismo, abbiamo visto una partecipazione veramente importante e quindi ci fa essere confidenti di aver fatto un'ottima scelta per il territorio della Sicilia, una scelta che è solo l'inizio e se questo prodromico ha una serie di manifestazioni benvengano per un abbinamento tra i credi agricoli e eventi come questi che hanno una valenza popolare veramente molto forte.